salve in questo video vedremo come affrontare l'estrazione di una chiave mediante plugin blue banana abbiamo già visto nel video 15 sulla color correction le sue funzionalità nell'operare cambiamenti di colore localizzati adesso vedremo altre funzionalità cioè la creazione di una maschera da usare poi nei plugin del chroma key questo ulteriore utilizzo di blue banana è complesso e delicato da capire quindi come al solito farò un'introduzione teorica per poi passare ad un esempio pratico userò allo scopo un frame di comodo siccome sinelera memorizza le ultime impostazioni dei filtri consiglio sempre di resettarli per partire da una base neutra questo ancora più utile per blue banana che è molto complesso come avevamo detto nel video 15 blue banana agisce creando un canale alfa che interagirà con il nostro frame trasformandolo questo canale alfa è da considerarsi nel vero e matematico significato di insieme di valori numerici astratti sono tali valori che modificheranno gli altri canali del frame secondo i nostri scopi qualunque essi siano tali valori possono rappresentare la trasparenza o meglio la solidità e questo è il modo con cui normalmente conosciamo il canale alfa per esempio in gimp oppure possano essere la consistenza o meglio il peso di una selezione che influenza il frame e questo è il modo come inteso in blue banana ma può anche essere altre cose poiché lo ripeto il canale alfa è solo un insieme di valori matematici in fondo anche canali rgb per esempio non sono altro che un insieme di valori matematici dei vari colori riapitolando in blu banana il canale alfa riporta i valori della selezione fatta non la sua forma o dimensione che ne sono la semplice conseguenza bensì quanto e come tale selezione riesce a modificare la nostra clip i valori della selezione li configuriamo con gli slider del primo pannello in alto come abbiamo visto nel video 15 il valore uguale a 0 è come se non ci fosse nessuna selezione in analogia alla massima trasparenza dove il valore uguale a 1 c'è la massima influenza in analogia con la massima solidità fra due estremi il peso è variabile chiamiamo a il valore del canale alfa calcolato creando e configurando la selezione con il filtro chiamiamo b il valore di un altro canale alfa creato dall'applicazione di un secondo plugin sulla stessa traccia in realtà a e b possono avere anche altri significati più sottili di cui non parlerò non solo perché non ci servono ma anche perché non li ho ben capiti in ogni caso il risultato è un nuovo canale alfa frutto della fusione di a e b sarà proprio questo canale ad influire sul frame con il suo peso in pratica abbiamo creato un matte termine usato nel rotoscoping che io pronuncio così e tale matte può essere utilizzato per vari scopi per esempio sovrapposto ad altre tracce usando comandi di overlay presente nella patch bay oppure può essere indirizzato ad altri plugin come il chroma key come vedremo fra poco fra l'altro oppure possiamo usare il suo essere una maschera di selezione per fare cambiamenti di colore localizzati all'interno di blue banana come abbiamo fatto nel video 15 ritornando alle nostre due selezioni chiamate a e b il pulsante combina selezioni determina il tipo di fusione fra a e b se il pulsante non è attivo si può dire anche unchecked oppure off avremo una intersezione che matematicamente corrisponde alla moltiplicazione a per b se attiviamo il pulsante avremo l'unione cioè la formula a più b meno a per b non vi spaventate per le formule matematiche sono solo moltiplicazioni elementari nel caso di intersezione avremo come risultato un nuovo canale alfa ridotto a causa della moltiplicazione infatti a e b assomano al massimo valore 1 per cui il risultato della moltiplicazione potrà andare solo da 0 a 1 nel caso dell'unione invece il canale alfa risulterà espanso perché comprenderà la somma di a e b un altro pulsante è marca selezione che serve a mostrare a video il canale alfa e la selezione in esso contenuta cioè il matte in realtà non solo lo mostra ma anche lo attiva in modo che i dati siano disponibili ad operazioni successive quelle citate precedentemente per capirci se non attiviamo questo pulsante insieme a quello di filtro attivo l'unica operazione possibile selezionare i colori all'interno di blu banana e modificarli se lo attiviamo possiamo usare il canale alfa anche in un secondo blu banana o in altri plugin tipo chroma key il pulsante maschera finale serve a disabilitare la visione del canale alfa quando è attivo il pulsante maschera selezione io lo uso per verificare il matte e il file originale passando dall'uno all'altro quando serve in realtà il suo uso dovrebbe essere più importante a giudicare dal manuale 5.1 ma io non l'ho capito comunque il suo effetto è quello di rendere qualunque valore del canale alfa uguale a 1 cioè alla massima solidità infine l'ultimo pulsante inverti selezione fa proprio quello che dice il suo nome portando i valori 0 a 1 e i valori 1 a 0 lo useremo fra poco quando estrarremo la chiave per il chroma key finita questa pesante introduzione teorica proviamo a mettere in pratica l'uso di blu banana per estrarre una chiave cromatica il primo passo è caricare due tracce la superiore con il green screen e l'inferiore con il background applichiamo alla traccia 1 il plugin blu banana che da ora un poi chiameremo blu banana 1 e resettiamo tale plugin facciamo una selezione basata sulla tonalità di verde più chiaro del green screen rendiamola la più precisa possibile usando i vari slider e pad non ultimo lo slider del riempimento cioè il fill che è molto importante per espandere o limitare la selezione presso i piccoli dettagli per esempio fra le dita delle mani della ragazza questa selezione occuperà quasi tutto il frame tranne la figura della ragazza e l'angolo in alto a sinistra che contiene dei toni di verde più scuri ora lasciamo su off il combine selection e mark selected area attiviamo invece mask selection e filtro attivo poi chiudiamo la finestra di configurazione e disattiviamo il plugin per impedire che il suo output interferisca nell'operazione seguente ora applichiamo un secondo blu banana chiamato blu banana numero 2 alla stessa traccia 1 e creiamo una seconda selezione che riguarda il verde più scuro attiviamo nuovamente il blu banana 1 ma senza aprire la finestra di configurazione data e l'abbiamo già impostata correttamente precedentemente nella finestra di configurazione di blu banana 2 impostiamo su on i pulsanti combina selezioni in modo da avere l'intersezione il pulsante maschera selezione il pulsante filtro attivo con blu banana 1 si seleziona il verde chiaro creando così a tutti i toni di verde compresi nella selezione assumeranno il valore 1 rimarrà fuori la figura con valore 0 e il verde scuro con valore 0 anch'esso il problema sono i toni intermedi di verde che assumeranno valori compresi fra 0 e 1 adesso disattiviamo il plugin blu banana 1 si applica blu banana 2 e si crea una selezione basata sul verde scuro questa sarà la nostra b il verde scuro assumerà il valore 1 il verde chiaro il valore 0 così come la figura i valori di verde intermedio avranno valori compresi fra 0 e 1 per capire meglio aiutiamoci con un disegno attivando anche blu banana 1 e lasciando off il pulsante combina selezioni otterremo l'intersezione fra a e b cioè a per b la semplice moltiplicazione quindi nella zona della figura avremo 0 per 0 uguale 0 cioè trasparenza per capirci nelle zone di verde chiaro puro e di verde scuro puro avremo 1 per 0 uguale a 0 per 1 uguale 0 il problema è nei verdi intermedi dove avremo 0 virgola qualcosa per 0 virgola qualcosa uguale 0 virgola 0 qualcosa cioè valori maggiori di 0 ma comunque vicini ad esso invece attivando l'unione cioè spuntando il pulsante combina selezioni il calcolo si fa più complesso ma non troppo nella figura avremo 0 più 0 uguale 0 esattamente come nel caso precedente nel verde scuro e nel verde chiaro puri avremo 1 più 0 meno 0 uguale 1 infine nei verdi intermedi avremo 0 virgola qualcosa più 0 virgola qualcosa meno 0 virgola 0 qualcosa il risultato sarà compreso fra 0 e 1 questa è la combinazione migliore per il chroma key perché differenzia nettamente il green dalla figura da estrarre l'unico problema è il rumore dei verdi intermedi che possono essere limitati solo allargando la selezione dei toni di verde nelle maschere a e b in ogni caso adesso appliciamo il plugin del chroma key alla traccia e vediamo che il risultato è sbagliato infatti la figura lascia passare il background mentre il verde mantiene la sua visibilità ma la questione si risolve facilmente attivando il pulsante inverti selezione in blu banana 2 adesso si può rifinire l'estrazione con tutti i metodi già visti nei video precedenti comunque il grosso del lavoro è già stato fatto dentro il plugin blu banana il vantaggio di estrarre la chiave con la maschera di selezione creata in blu banana anche se meno precisa che se fatto un apposito plugin è che funziona bene anche per video che presentano movimenti complicati della figura e in cui il verde non è molto omogeneo si potrebbe dire che blu banana ci permette una specie di fase di adjustment screen di cui avevamo parlato nei video precedenti ma in cui avevo detto che non era possibile eseguirla in sinelera facciamo così ve lo lascio come compito a casa e se vi riesce dovrete spiegarmelo a me per bene bene chiudiamo il video come al solito troppo lungo grazie 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 a tutti.